Buongiorno, oggi parleremo di James Hillman. Hillman introduce una visione assolutamente originale della personalità, la cui onda d'urto si propagerà a lungo nel dibattito psicoanalitico, che deve essere un dibattito sempre teso alla continua revisione e quindi allo scardinamento di ogni certezza. Questo atteggiamento polemico però non va inteso nella sua accezione negativa, ma va inteso come dinamismo nella sua qualità di muovere e accendere gli animi, cioè l'anima. A Hillman si devono forse i più originali sviluppi della psicologia junghiana. Hillman elegge il luogo costitutivo della psicologia nell'anima. Anima è la traduzione latina del termine greco psiche e Hillman usa queste due espressioni in modo intercambiabile e intende per anima una prospettiva, cioè una finestra attraverso la quale guardare il mondo interiore. Hillman riconosce con Jung il concetto di realtà psichica e quindi la possibilità di una lettura del destino umano, sia individuale che collettivo, una lettura in termini psicologici. Se un tempo attraverso il mito l'anima poteva raccontare se stessa, oggi soltanto una lettura psicologica dei fenomeni può permettere all'anima di manifestarsi. Leggere con gli occhi della psiche significa leggere in profondità e allora non può esistere, secondo Hillman, una psicologia che non sia del profondo, perché tutto ciò che è psiche porta nelle profondità, cioè nel mondo infero, e il mondo infero è il regno dell'anima, ed è anche il regno dell'immagine. L'anima si esprime per immagini. Quindi il compito della psicologia non è soltanto quello di rendere intelligibili queste immagini, tradurle quindi in un linguaggio comprensibile per la coscienza, ma il compito della psicologia è soprattutto quello di creare uno spazio nel quale i contenuti dell'anima possono continuare ad esistere e quindi a manifestarsi nella loro forma originale, che è la forma immaginale. La finalità della vita consiste nel fare della vita psiche, nel fare psiche, cioè nel fare anima. Il fare anima è in altri termini un agire teso alla differenziazione di quella zona intermedia che è appunto il mondo delle immagini, il modo immaginale. Questa è anche un'attività poetica, un'attività che per definizione coglie l'immagine e le dà forma. Se il fare anima consiste nel differenziare, nel senso di focalizzare, allora questo vuol dire che ci dobbiamo occupare dello spazio intermedio, che è il luogo delle immagini, e questo però vuol dire che ogni interpretazione che tende a riportare ad uno schema di riferimento fissato l'immagine è un'interpretazione letterale, cioè è una interpretazione che chiude l'immagine, che rappresenta una chiusura difensiva di quel mondo immaginale che è tipico dell'anima. Dunque, Hillman cosa cerca di fare? Cerca di andare oltre il letteralismo, che è quella tendenza ad imprigionare e solidificare l'esperienza dell'anima. Potremmo dire che Hillman propone agli psicologi un metodo di lavoro circolare di riflessione e autoriflessione. L'impegno di Hillman costituisce un tentativo di ridefinizione dei concetti psicologici, teso a porre in discussione l'atteggiamento fideistico e letterale che si è andato consolidando in ambito psicologico. Il compito costitutivo della psicologia sarà dunque quello di interrogare se stessa. Secondo Hillman il politeismo è un focalizzarsi sui molti e sul diverso, piuttosto che sull'uno e sull'uguale. Il politeismo permette quindi di guardare in modi svariati ad un'unica condizione psichica. La psicologia contemporanea è guidata invece dall'idea dell'unità, dice Hillman, e quando l'uno significa solo, cioè unicità, unilateralità e via dicendo, allora quando l'uno significa solo il letteralismo diventa inevitabile. Quindi Hillman conclude che la psicologia monoteistica è una psicologia dell'io. Le interpretazioni di questa psicologia tendono al ripristino dell'unità e quindi al rafforzamento dell'io, che diventa quindi il centro della personalità. Ma Hillman propone un'altra cosa rispetto a questo. Non intende però annientare l'esistenza di questo io che lui chiama eroico, bensì Hillman intende relativizzare, relativizzare le funzioni di volontà e di intelletto dell'io, ridimensionando il malinteso culturale per cui l'io ha finito per rappresentare l'unico possibile stile di vita. In altre parole, il lavoro di Hillman sfocia nella costruzione di una psicologia che va sotto il nome di psicologia archetipica o psicologia politeistica. Hillman ritiene che la psiche umana si manifesti attraverso una molteplicità di forme e che quindi sia necessario non tradire questa molteplicità, ma sia necessario appunto accogliere la molteplicità. Il politeismo psicologico riguarda soprattutto gli atteggiamenti e quindi il modo di vedere e di dare una collocazione alle cose. Vista in quest'ottica, l'interpretazione assume una nuova veste. Il modello politeistico va in direzione del molteplice e quindi delle relazioni complicate, diciamo così. E allora cosa succede? Succede che un qualsiasi evento psichico necessita di un'altra lettura e rappresenta una fantasia archetipica, cioè un racconto. E un qualsiasi evento psichico ha un suo significato che lo colloca all'interno di un mito, all'interno di un mito piuttosto che di un altro. I miti cosa sono? Sono degli universali fantastici e la fantasia è la forza primordiale dell'anima. La fantasia è la forza primordiale dell'anima. Quindi per Hillman la psicologia politeistica si interessa della sopravvivenza dell'anima. Possiamo anche utilizzare questa formula. Ma questa sopravvivenza, come dice anche Jung, passa attraverso una continua riformulazione dei miti, cioè bisognerà reimmaginare questi miti per farli rivivere oggi. Hillman tra l'altro riconosce a Jung il merito di aver introdotto con il concetto di archetipo e di inconscio collettivo, nel senso più antico di memoria, riconosce un ponte verso il mondo immaginale. La psicologia archetipica vuole apprendere un'arte della memoria che non sia soltanto discorsiva, ma soprattutto capace di raccogliere in un quadro significativo gruppi di simboli e di immagini psichiche. L'incaricato di questo apprendimento però non è l'io eroico, caratterizzato dalla luminosità della coscienza, ma l'io immaginale, che è un io un po' più discontinuo. E l'itinerario ideale per questo tipo di lavoro è un itinerario uroborico, che è appunto una circolazione tra la luce e l'oscurità. Questo itinerario include anche delle svolte verso il basso, le depressioni, le recessioni. L'io immaginale sembra sentirsi a proprio agio con tutto ciò che è considerato irreale. Cioè si apre una prospettiva archetipica dell'analisi stessa, poiché dopo tutto anche l'analisi è la messa in scena di una fantasia archetipica. E allora, se per far rivivere il mito è necessario reimmaginarlo, una psicologia archetipica procederà in questa direzione. In primo luogo reimaginerà il fondamento di ogni psicologia, cioè la personalità. Infatti Hillman dice che la personalità è il tramite attraverso cui parla l'anima. In una concezione policentrica della personalità non si parlerà di un unico io, ma di più io. Esisterà un io cosciente, o come lo chiama Hillman, io eroico, ma anche esisterà, come abbiamo detto, un io immaginale. Ed esisterà un io del sogno e delle fantasie inconsce. Questo è l'io immaginale. Le manifestazioni di quella che generalmente si definisce parte inconscia della personalità che rimanda ai sogni, alle fantasie e ai sintomi, non saranno più lette in base a concetti di rimozione e di compensazione, ma ad esempio come una preparazione dell'anima alla morte. Saranno letti in questa nuova chiave. Quindi si fa strada anche in questo caso la necessità di reimmaginare la psicoterapia. E quindi Hillman si chiede se la molteplicità del nostro essere dovesse rimanere inascoltata, allora in questo caso comparirebbero tutta una serie di malattie. Dunque il compito è in primo luogo quello di ripensare, o meglio di reimmaginare, la psicopatologia, esaminando il comportamento con un occhio mitico e ascoltando i racconti che fa il paziente come se fossero delle favole. Gli sviluppi di una psicologia così intesa tendono alla creazione di una psicologia fondata sull'intuizione e sulla evocazione, non tanto sull'interpretazione e sulla spiegazione. Quindi stiamo parlando di una psicologia che cerchi di tradurre il linguaggio dell'anima, che è un linguaggio immaginale. Dunque abbiamo bisogno di una psicologia poetica. La psicologia, come Hillman l'ha revisionata, è una ricerca del logos dell'anima. Quindi se, come affermava Jung, la psiche è immagine, essere incollati all'immagine è l'unico modo di essere psicologi. La mente psicologica è una mente che vive nel regno della finzione, cioè nel regno del come se. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche. Per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo questo messaggio. Come funziona la consulenza specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Mi trovate anche su facebook dove troverete un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e troverete anche una pagina dal titolo psicologia, la mia psicologia. In bocca al lupo a tutti, a presto.